via 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 ragazzi andiamo 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 la prendi spalla piuttosto no adesso te la butta dosso guarda che te la butta dosso adesso ma che te la butta dosso ma che stia scendendo guardalo guardalo perché è chiuso cioè è risciuo guarda quan Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.